Conto, se non fossi stato in compagnia dei miei due colleghi non so come avrebbe potuto andare a finire perché anche la strada per andare al parcheggio è abbastanza isolata. E' ancora scossa Silvia Covolo mentre arriva al comando provinciale dei Carabinieri di Padova per sporgere denuncia. La sera prima la neoparlamentare è stata cerchiata da tre extracomunitari e schiaffeggiata in stazione a Padova mentre assieme ad altri parlamentari rientrava da Roma. Erano da poco passate le 19. Non ho assolutamente guardato nessuno, non ho provocato nessuno, stavo soltanto trascinando la mia valigia e mi sono sentita colpire da uno schiaffo in volto. Nel momento in cui mi sono girata ho visto questi tre individui che mi hanno derisa. La deputata è stata immediatamente raggiunta dai due colleghi con i quali aveva viaggiato Massimo Bitonce e Germano Racchella. I tre extracomunitari dopo una breve discussione si sono dileguati. Nel momento la stazione non era presidiata, è stato questo che ci ha colpito. Roma è una città blindatissima perché c'è l'esercito in ogni angolo e anche in stazione si può girare liberamente. A Padova invece non abbiamo visto alcuna forma di controllo e abbiamo dovuto attendere dieci minuti perché arrivasse una pattuglia dei vigili. La vicenda riaccende la polemica sull'assenza di controlli in un'area difficile della città e sull'atteggiamento che l'ha giunta a Giordania nei confronti di uno dei problemi che coinvolge quotidianamente migliaia di padovani. Massimo Bitonce è durissimo contro il comune. Il tentativo che ha fatto il portavoce del sindaco pagato con 100 mila euro all'anno non è stato quello di interessarsi di trovare una soluzione, magari di parlare con il sindaco e dire forse dobbiamo mettere un presidio fisso in stazione. No, il problema è stato quello di telefonare a giornalisti. Io ho trattelefonato i giornalisti indispettiti perché hanno detto ma si voleva limitare la possibilità di riportare i fatti come sono.